e salva a tutti ragazzi vabbè vabbè benvenuti in questo nuovo video del canale di Giulia e Danny oggi siamo qui scusateci per la lunghissima assenza perché non abbiamo fatto più video è solo che ogni volta non sapevamo che fare e oggi siamo tornati qui con un video nuovo bello è buono oggi oggi siamo in una nuova location siamo in cucina che cosa facciamo oggi è la stessa cosa allora oggi andiamo a cucinare questo coso e se vi piace ditecela e noi vi portiamo un altro episodio con le crepe con l'antel in cucina con Giulia e Danny le crepe dell'antel tu Danny iniziamo azione bene si partito abbiamo preso tutti gli ingredienti abbiamo preso una cioccolata e adesso iniziamo a cucinare però almeno diciamo gli ingredienti che li mettiamo giù nell'info box vabbè sono comunque uova olio di sedi scorza di limone vabbè la scorza di limone allora mettiamo uova olio di sedi non so se lo vedete poi zucchero farina sale che lo prendiamo dopo fecola di patate e lievito per dolci comunque mettiamo sotto giù nell'info box questa è una ricetta un po' è una variante perché a noi non piace con lo yogurt però questa è una ricetta con lo yogurt quindi noi ve lo mettiamo pure se voi volete mettercelo così se vi piace lo yogurt mi piacevano io allora toglia le uova Aspetta Questa parte Viene bianco e nero Un oreo Un oreo Butta Leva questo ipad gigantesco Poi che si mette Anna? Poi lo zucchero Zucca tutto Poi inizia a fare qualcosa Come on be my baby Come on I'm in love with the shape of you Push and pull like a magnet But what my heart is falling to I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you Everything's covering something brand new I'm in love with the shape of you The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go Me and my friends at the table doing shots Triple fast and then we talk slow And come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it chance Now take my hand stop and bend the man on the jukebox and then we start to dance and I'm singing like girl you know I want your love Allora adesso abbiamo aggiunto pure il sale E poi posso mescolare E poi posso mescolare Io nel frattempo Accendo il forno E poi la fredda quando lo abbiamo accenduto E io come lo vuoi La sto lasciando la cevola non credo che sia uguale Non so nemmeno fare la pasta normale Dobbiamo Senza niente Adesso accendiamo il forno Poi se volete ci potete anche voi scrivere che cosa possiamo fare la prossima volta Questa come Questa questa cosa che abbiamo aperto noi Cucinare con Ellie In cucina In cucina con Giulia e Ellie Cioè decidete voi Però basta che siano cose Cioè fattibili Non è che ci No tipo La 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 che volete fare da tanto tempo però non sapete fare e non riuscite a capire dalle ricette io soprattutto sono inesperta nessuno è più esperto di me sono la cucca più brava del mondo state parlando con giuli maresca non è che vorrei dire che bello adesso abbiamo foderato con la carta forno il nostro ruoto da plum cake e adesso si va a buttare tutto dentro allora giulia prima di fare guai no lo so fare questo lo so fare è una vergogna che non so fare dolci poi non mi basti nonna di giulia prendimi come come nipote io intanto che mi leggo la posta aspetta ferma te lo tieni tu o no 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 aiutami e quanti anni vorrei fare solo per me penso che non so più centrali in camera ce le metto anche io un'altra cosa giulia attenta giulia mia madre mi ammazza e io qui guarda che ce le metto e io qui guarda che ce le metto io qui non ce le metto non ce le metto non ce le metto non ce le metto e sta neccando le metto allora allora questo cacchio giulia si è sporcato dopo la pulisce giulia questo è quello che ci esce ma aspettiamo che il forno si riscalda un altro luogo e poi ce lo mettiamo da dentro e noi adesso ci diamo qui il nostro cupcake mi piace? bene se volete lo potete pure tagliare metterci in Nutella quello che volete yogurt altro yogurt forse gli amici mettiamo in Nutella patatino allora il video è finito qui mettete tanti pollici in su nooo e seguiteci su tutti i nostri video che siamo qui sotto e consigliateci delle altre cose da finale che noi troviamo le ricette e ve lo facciamo vedere e ve lo facciamo vedere che ci divertiamo ok allora al prossimo video ciao ciao